Il Tupacala è un format un po' particolare, un po' differente rispetto a quelli che oggi sono in voga praticamente in Italia. È una sala event bellissima, un lunch bar bellissimo, ristorazione, bingo, gioco, negozio SNAI, eventi ogni giorno. Quindi è più un centro d'aggregazione che effettivamente la classica sala giochi che oggi si vedono in giro. Qui ci si diverte e poi se ci va giochiamo. Allora ci si viene a divertire, poi se uno vuole giocare può anche giocare. Infatti la chiamo la città dell'intrattenimento. Dove non ci facciamo anche lui, abbiamo anche il grande Riccardo Modesti. Io ho già detto delle cose molto importanti, c'è Toni che qui è un personaggio, ma Toni che innamora tanta gente qui. Che devo dire? Vorrei essere come te io. No, io alle donne non posso dire venite qui perché è veramente una cosa unica, almeno qui a Roma, cose del genere. Poi noi, io e lui che giriamo tutte le sere, che ci invitano in tutte le parti, una cosa del genere non l'avevamo mai vista. Devo fare i complimenti a lui e a chi ha avuto questa idea. Anch'io faccio i complimenti a Fabiano, perciò dal Dubai Caffè al Dubai Palace. Fabiano Varelli, facciamo un saluto a tutti gli amici che ci seguono sul social network, YouTube, MySpace, Facebook. Poi salutiamo la community, il nostro amico Massimo Marino, che adesso arriverà. Che adesso a trafè arriverà. E nel frattempo salutiamo tutti quanti dal Dubai Palace. Un saluto a tutti quanti. Un saluto. Un saluto. Ciao.